E' morto Tommy di Karate Kid, si è spento a 59 anni per complicazioni ai reni e al fegato Rob Garrison che interpretava uno dei nemici di Ralph Macchio o Maccio nella saga sulle arti marziali, la famosissima saga di Karate Kid. Era uno dei nemici appunto nella saga di Karate Kid e morto Rob Garrison, famoso appunto per aver interpretato Tommy, uno degli avversari che Daniel, ovvero Macchio, elimina nel torneo al centro del primo film della serie. L'attore aveva 59 anni ed era stato ricoverato in West Virginia e successivamente trasferito in Pennsylvania per gravi problemi ai reni e al fegato. Garrison aveva iniziato a recitare negli anni 70 ma si fece conoscere solo dopo aver partecipato a Karate Kid nel 1984, replicando anche nel sequel del 1986 e ricomparendo dopo diversi anni d'assenza nella serie su YouTube Cobra Kai, sorta di spin-off del film in cui interpretava sempre Tommy. Grazie per avermi ascoltato, vi rimando al prossimo video, arrivederci. Grazie per avermi ascoltato, vi rimando al prossimo video, vi rimando al prossimo video, vi rimando al prossimo video, vi rimando al prossimo video.